Sì, sole, mare, Vesuvio, pizza, generosità e anche malavita. Sono questi alcuni degli ingredienti di uno spettacolo assolutamente da non perdere. Il prossimo 17 marzo al Teatro Bolivar di Napoli arriva Terra e Cor, Emozioni e Flamenco con Anima Compagnia presso il Teatro Bolivar. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti e quindi diamo il buongiorno a Antonio Campaiola. Buongiorno. Buongiorno. Emanuela Iannelli, buongiorno. Buongiorno. Ecco Antonio, tra desideri quindi e realtà, ambizioni e anche voglia di riscatto, la vita di Lucia Lopez, questa giovane e sivigliana di famiglia benestante, si intreccia poi per caso con quella di Gennaro Mele, questo ovviamente personaggio detto anche Malamore, questo ragazzo napoletano che da sempre è stato però immischiato anche nello spaccio di droga. Come nasce proprio l'idea di intrecciare questi destini in questo spettacolo? Allora innanzitutto questo nasce perché oltre a voler fare un mero spettacolo, vogliamo lanciare dei messaggi, perché uno dei compiti di noi artisti è proprio quello di comunicare con il pubblico che ci segue e quindi lanciare dei messaggi. Quindi la volontà è stata quella di partire da Napoli intesa come città del mondo e quindi con i problemi che fanno parte un po' di tutte le popolazioni mondiali. E quindi ecco che abbiamo una situazione un po' disagiata di Gennaro che è chiamato Malamore perché è solito innamorarsi insomma delle fanciulle che si ritrova davanti e quindi è sempre solito seguire il cuore. E quindi questa già è una prima strada, è un primo approccio di un personaggio che già è alla ricerca della propria libertà e della maturazione dei propri sentimenti. E l'incontro con Lucia è appunto la volontà di rendere un po' più internazionale ed ecco molto più varia, non tenere contestualizzata nella sola città di Napoli i personaggi. Ebbene Emanuela, una storia quindi direi vibrante in qualche modo, quella dello spettacolo Terra e Core, a cura ovviamente della vostra compagnia. Il tutto ruota intorno alla magia e anche alla forza espressiva del flamenco, questo ballo, questo ballo senza tempo, intenso, ma come si inserisce nella storia? È il nostro linguaggio, è proprio il modo in cui comunichiamo, comunichiamo con la danza e principalmente con il flamenco. Quindi è una danza estremamente forte, piena di passione, che può raccontare la gioia, l'amore, la morte e quindi tutti questi temi che poi vengono affrontati e sono i protagonisti dello spettacolo. Ecco Antonio, nello spettacolo l'energia e anche il ritmo del flamenco poi alla fine diventano anche gli strumenti di questo racconto. ecco i colori dell'Andalusia che si intrecciano poi con quelli della nostra Napoli. Che cosa unisce e che cosa poi invece lega queste due realtà e questi due popoli? Allora sicuramente è la capacità di comunicare in un modo spesso anche molto colorato. Il flamenco è noto per la sua potenza espressiva non soltanto dal punto di vista tecnico e quindi con gli suoni che i ballerini generano con le scarpe ma anche proprio con l'espressività del volto, del corpo e che sono un po' tutti aspetti che ritroviamo nella Napoli di tutti i giorni perché siamo soliti anche molto gesticolare oppure fare espressioni facciali particolari e quindi anche dal punto di vista culturale vediamo questo incontro tra le due culture che poi noi abbiamo portato in scena tramite ecco il flamenco. Però ricordiamo che questo spettacolo dal respiro ecco contemporaneo è frutto del vostro progetto Anima Compagnia nato nel 2018. Di che cosa si tratta? Allora noi ci siamo conosciuti nel 2018, siamo due ballerini, due insegnanti abbiamo formazioni e un vissuto artistico totalmente diverso e poi abbiamo piano piano deciso di collaborare e di creare questo progetto che è una compagnia attualmente composta da cinque ballerini. Quindi avete alle spalle ovviamente due passati differenti, due formazioni come Emanuela ben diceva completamente diverse che hanno trovato però in qualche modo il loro punto di incontro nell'arte, nella danza, nel flamenco. Che cosa vi regala questo genere e perché secondo te Antonio è così apprezzato dal pubblico? Allora ritornando a ciò che dicevo prima ciò che più è apprezzato dal pubblico è proprio la forza comunicativa del flamenco. in particolare insomma io e Emanuela nonostante ecco le nostre formazioni differenti hanno trovato questo punto di incontro proprio in questa disciplina. La particolarità è proprio lo scambio che avviene tra noi due perché la differenza di formazioni che abbiamo alle spalle ci consente di scambiarci continuamente delle nuove idee, delle nuove proposte espressive quindi questo è anche un fattore di crescita per entrambi chiaramente ed è anche direi anche la nostra forza assolutamente. E quindi ad oggi dopo tanti anni di collaborazioni qual è il vostro desiderio più grande? Se ce n'è uno in particolare. Ci sono parecchi, parecchi obiettivi e il prossimo obiettivo è quello proprio di domenica 17 marzo lo spettacolo è di portare comunque il flamenco in giro sia in Napoli che in tutta l'Italia insomma quindi di essere protagonisti del flamenco, di portarlo in giro. Quindi il flamenco è la passione che vi unisce di più sicuramente rispetto anche a tutte le altre ma quali sono i tre motivi per cui questa danza e questa storia in particolare conquisteranno il pubblico? Perché il flamenco è una danza forte è una danza che ha tanto carattere L'altro motivo è perché è una storia accattivante molto intrigante e perché è un progetto che vale la pena vedere quindi vi aspettiamo a teatro. E quindi ricordiamo che stiamo parlando del 17 marzo al Teatro Bolivar di Napoli con lo spettacolo Terra e Core Emozioni e Flamento di Anima Compagnia Allora noi vi ringraziamo veramente per essere stati in nostra compagnia questa mattina a Mattina Live e quindi ringrazio ancora una volta Antonio Campaiola e Manuela Iannelli Grazie Pubblicità tra pochissimo con Mattina Live Grazie 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 Grazie